...e quindi entra per prima sulla salita di Monte Carambo, Madonna di Loretto in vantaggio nei confronti di La Pace e Sant'Anna si avvicina, un via Madonna di Loretto che si difende, Madonna di Loretto vince la finale di consolazione. ...e quindi entra per prima sulla salita di Monte Carambo, Madonna di Loretto, riempia Madonna di Loretto che si difende, Madonna di Loretto vince...